buonasera signori non c'è neppure tempo per sistemare perfettamente il set spero apprezzate questo video di petto e di pancia perché non ho idea di cosa stia succedendo ad apple l'avete visto partiamo da il gigantesco elefante nella stanza apple ha rimesso il mag safe sui macbook ha lanciato una serie di nuovi processori ha lanciato un design nuovo con il notch per i nuovi macbook una cosa veramente pazzesca sono gasatissimo partiamo da quella perché la novità che sinceramente mi interessa di più e che mi aspettavo di più poi parliamo anche di tutto il resto delle nuove airpods del nuovo on pod mini in colorazione gialla russa arancione in ogni caso allora innanzitutto sparita la touch bar l'inizio con cui ho dato il titolo a questo video eccetera appunto cosa sta succedendo apple per il fatto che raramente apple nel passato ha veramente ascoltato il feedback degli utenti ora la touch bar non piaceva quasi a nessuno non è stata poi questa grande intuizione non è stata apprezzata neanche dai professionisti ma in primis perché era farraginosa alla fine non si usava più di tanto era sicuramente un costo enorme da produrre perché c'era un piccolo display oled al di sotto di questa parte in vetro adesso hanno finalmente deciso di rimuoverla sistemare la tastiera hanno fatto addirittura con un fondo nero molto molto interessante rispetto all'alluminio solito nella diciamo proprio nella parte di tastiera tasti fisici che ritornano su tutta la parte di comandi del volume della luminosità dei vari avanti indietro skip di traccia insomma mi ha reso veramente contento prima di iniziare però vi ricordo che è attiva la strepitosa promo body bank che vi dà 40 euro bonus all'apertura di un nuovo conto ci sono tantissime nuove chicche nell'applicazione potete fare anche un pack gestito da money farm potete pagare l'assicurazione dell'auto e della moto con un'offerta dedicata insomma link qui sotto in descrizione soprattutto codice sconto 8 un'altra cosa pazzesca è che hanno messo l'hdmi fisica c'è un hdmi full size sul fianco di un macbook ragazzi non lo vediamo da cinque anni questa cosa forse di più hanno capito forse che per qualcuno è fondamentale non è il mio caso io ero super contento dell'usbc come strumento per mandare il segnale video ai monitor effettivamente ma probabilmente qualcuno lo apprezzerà particolarmente hanno lasciato la presa jack il jack audio anche questo io non lo soffro così tanto non l'avrei sofferto così tanto se lo avessero rimosso in ogni caso penso che sia un benvenuto per tanti nel senso che chi si occupa di audio chi si occupa di musica lo apprezzerà moltissimo anche se uscire dall'usbc con un'interfaccia audio dedicata è la via professionale di fare musica di fare audio anche entrarci ovviamente qual è il tema però che questi macbook si chiamano sì macbook però però alla fine si rivolgono ad un pubblico un po più generalista di quello che immaginiamo altro tema gigantesco il fatto che abbiamo di nuovo l'introduzione del mag safe una cosa che forse forse si vede è ancora presente su macbook in mio possesso questo vecchissimo macbook del 2013 ancora impolverato qui c'è la porta mag safe non so se si vede che cos'era che cos'è è un sistema che ho sempre trovato geniale che apple aveva introdotto sui suoi macbook ossia un una possibilità di connettere il cavo di ricarica del macbook in modo magnetico io vi assicuro che l'università mi ha cambiato la vita perché cosa succedeva che io ero seduto a un qualsiasi banco tavolo dell'università c'erano tutti con il computer prese elettriche che volavano sul soffitto casine che non vi dico la gente camminava in giro inciampava sul cavo tirava e il rischio era di far volare i computer di tutto il tavolo spaccare il cavo spaccare l'alimentatore spaccare la porta a cui si va a ricaricare è stata una grande mancanza questo sistema quando è stata introdotta l'usb di tipo c che tra l'altro si scassa anche abbastanza facilmente con una operazione di questo tipo quindi sono veramente extra contento che sia stato rintrodotto il mag safe non è più la mia situazione questa però capisco che il valore è gigantesco hanno addirittura pensato di aumentare le dimensioni dello schermo in maniera molto interessante quello che adesso è il computer più grande esistente il 16 pollici diventa un 16.2 pollici pur mantenendo la stessa impronta a terra pensate che all'epoca quando io compravi questo macbook esisteva il 17 pollici che era veramente enorme adesso sono riusciti a fare un ottimo lavoro di compromesso hanno però introdotto il notch e questa cosa adesso ne parliamo tra un attimo perché vi segnalo che poi esiste il modello quello che era il modello da 13 pollici non esiste più con questi nuovi processori esiste il 14.2 pollici quindi quasi un 15 quindi devo dire che sicuramente il compromesso è fattibile perché lo schermo è sicuramente più grande il computer più piccolo più portatile più comodo dicevo hanno introdotto il notch è una cosa che mi ha scombussolato perché voglio dire gli ipad non lo montano non hanno una protuberanza per le fotocamere riescono comunque a fare uno schermo con delle dimensioni interessanti con un bordo abbastanza sottile hanno pensato di introdurlo per ridurre ancora di più la cornice dello schermo tutto attorno e il notch ovviamente contiene tutti quei sensori di fotocamera frontale che hanno migliorato hanno fatto il 1080 sulla camera frontale ormai che sta diventando super importante per tutte le riunioni in teleravoro devo dire che il notch vorrei vederlo dal vivo non lo so con l'interfaccia scura non sembra male con l'interfaccia chiara meno bene ripeto vorrei vederlo e soprattutto aspetto all'angolo tutti i produttori cinesi e i vari concorrenti che si accingeranno sicuramente a piazzare il notch anche loro nei loro prodotti per rincorrere questo mito di apple appunto dopo di che dopo di che abbiamo il promotion con i 120 hertz adattivi sullo schermo del macbook gran figata come questo ipad pro che vedete qui nelle mie mani cosa significa che i contenuti adattano la loro anzi lo schermo adatta la sua fluidità la il proprio erzzaggio che è una parola che non esiste la frequenza di aggiornamento dello schermo aumenta in funzione del contenuto diminuisce appunto in funzione del contenuto un testo statico tiene dei frame rate più bassi degli hertz più bassi un contenuto dinamico quindi quando scorrete le pagine eccetera aumenteranno la frequenza di aggiornamento dello schermo e lo farà sembrare un'esperienza ancora più fluida questa è veramente una figata oltre a questo cari miei c'è una gigante vabbè tema anche gigante di nuovo l'arrotondamento delle forme hanno cambiato anche un po l'estetica di questi macbook ma non è questo il punto è che dentro questi macbook ci sono due nuovi processori hanno lanciato due processori che si chiamano m1 pro m1 max anche qui due processori tutti e due molto più potenti dell m1 classico che avete visto qui sul canale che consumano pochissima energia in proporzione alla loro potenza che è il grande punto di forza del dei nuovi chip diciamo arm su cui si basano questi nuovi macbook se volete un piccolo approfondimento secondo me è veramente affascinante ve l'ho fatto nel video dedicato al mac mini quindi lì c'è tutta la storia di come è nato questo questo confronto tra intel e processori arm e di come iphone abbia prima passa sia prima passata dentro intel poi sia uscita abbia detto sai cosa me li faccio io due volte quindi insomma datevi un'occhiata dice tutta la parte storica è super interessante così capite anche perché questi processori nuovi sono così efficienti in termini energetici ragazzi questo su un portatile fa la differenza avete più potenza a disposizione dovete caricare meno il computer vi dura di più la batteria dura diverse ore diversi diversi giorni addirittura non so se avete provato i nuovi macbook ma è una roba fuori di testa e poi scaldano meno vi permettono di consumare meno risorse insomma veramente una figata non sto qui ad annoiarvi con le specifiche tecniche di questi nuovi chip anche perché ne capisco relativamente mi interessa soprattutto l'esperienza d'uso poi finale di un computer in questo senso quindi aspettatevi assolutamente di mettere le mani su un video dedicato a questi prodotti passiamo ad un ulteriore step che è quello delle nuove airpods avete visto hanno lanciato questo nuovo modello di airpods che non sono né nelle airpods classiche diciamo quelle piatte flat che dovrebbero rimanere ancora in vendita né delle airpods pro quindi non hanno i gommini sono lisce questo verrà molto apprezzato da tantissimi che non amano il gommino che si infila all'interno dell'orecchio sono un pochino più larghe del modello diciamo col bastoncino dritto che eravamo abituati a conoscere un pochino più strette delle airpods pro che comunque rimarranno in line up e che comunque rimarranno come riferimento per quanto riguarda l'isolamento acustico perché certo c'è anche quello passivo dovuto al fatto che fitano molto meglio all'interno dell'orecchio hanno un design nuovo diverso con una cosa che a me interessa moltissimo i driver riprogettati dedicati proprio per questo nuovo auricolare sono curiosissimo di metterci le orecchie addosso perché voglio sentire insomma come suonano sarebbe interessante capire se questo nuovo driver fa la differenza ma soprattutto se verrà traslato anche sulle airpods pro perché chiaramente a questo punto altrimenti rimangono un po indietro oltre a questo hanno di interessante il fatto che nella parte posteriore montano quanto pare un attacco magsafe non ho ben capito credo che diventino magneti che possano essere innestate all'interno dei vari dispositivi di ricarica apple anche adesso funziona su una presa magsafe la ricarica delle airpods immagino però abbiano aggiunto un magnete o una parte in metallo che permette un innesto più preciso e sensato molto positivo parentesi non l'ho detto prima non so come apple gestirà il fatto che ora come magsafe si chiama sia l'attacco che si vede sul posteriore di iphone sia questo attacco magnetico sempre ma con una forma totalmente diversa dei macbook forse non pensavano di riintrodurlo gli piaceva già il nome hanno non so stanno facendo un po di casino forse con questa parte di nome comunque non così importante oltre a questo hanno l'equalizzazione adattiva mi sono segnato la batteria più durevole carica rapida come al solito insomma tutte cose comunque che non fanno veramente la differenza bisogna sapere come suona questo nuovo driver e come stanno in mano come stanno nelle orecchie se ha senso fare l'upgrade personalmente credo di sì amo le airpods soprattutto le pro le uso tantissimo per fare chiamate per ascoltare musica sono leggere si mettono in tasca hanno sbaragliato la concorrenza come cuffie wireless quindi spero che anche queste facciano veramente un bel risultato ultimo ma non ultimo la lompom mini non ho capito se lo lanciano anche in italia però quello che è cambiato è semplicemente il colore hanno aggiunto una versione arancione gialla e una blu scura niente non ho moltissimo da dire su questo dispositivo mi piace suona bene funziona bene interessante c'è già l'italiano però è un prodotto che sicuramente va testato perché rende un pochino più magico l'ambiente ora quei colori diventa anche più divertente da avere ok però insomma non certo la rivoluzione in casa apple non passa certo da qui poi ho visto apple music voice che sembra interessante nel senso che c'è un piano che parte addirittura da 5 dollari al mese adesso in italia non so se siano 5 euro ma comunque hanno dimezzato il prezzo di un abbonamento apple music e questo potrebbe questo sì potrebbe veramente sbaragliare la concorrenza per chi vuole accedere alla musica a pagamento in questi termini 5 euro è al limite dell'imbarazzante vista la quantità di cose che ci sono a disposizione in ogni caso farò un video dedicato sia ai computer sia forse all'home pod che sicuramente alle cuffiette alle ipods quindi ricordatevi di seguire il canale iscrivetevi lasciate un bel mi piace e soprattutto noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video